E' nuovo o l'hanno fatto di proposito? No, è usato. Eh? E' usato. Anzina, poi però tutte queste cose è nuovo. No papà, un minuto, poi però... No, no, no. Ti faccio vedere che si sta andando. No, 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 ti faccio vedere che si sta andando. Ti faccio vedere che si sta andando. Ti faccio vedere che si sta andando con una lince. Quale è il bicicletta? Eh, i bicicletti si andano a mettere in un box. Però, se non lo so nel box, si deve coprire la bicicletta. Certo. Quanto poi non le fosse passette di cuoio. eh? Ah! 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 Eh? Ah! 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 Grazie. Grazie.